Il professor Ronzon ci parlerà di gioco, suono e struttura nell'opera di John Cage, presentando la performance di sound art che si terrà nel cortile di Palazzo Forti nella giornata di oggi alle 18.30 e domani alle 17.30. L'evento sarà cura dell'Accademia di Belle Arti di Verona e del Conservatorio. Lasciamo quindi la parola al nostro ospite. Oh, ok. Ok, l'intervento vuole essere un qualcosa a questo punto di breve e non troppo prolisso. L'idea era quella di presentare in qualche maniera la filosofia di Cage e far vedere anche come questa ricadeva nell'opera che poi potevate vedere eseguita questo pomeriggio e domani pomeriggio. Ok, cosa c'entra Cage con il gioco? Il filosofo Ludwig Wittenstein quando parlava di giochi diceva che non esiste, è difficile categorizzare il gioco in un'unica entità, è una serie di somiglianze di famiglia fra varie attività. Tra queste varie attività che compongono poi questa grande categoria del gioco è possibile trovare nell'opera di Cage numerosi elementi che vengono poi a caratterizzare quella che è l'effetto finale del prodotto, del prodotto sonoro. Io qua ho scritto, spero che si veda con le luci, una delle frasi di Cage quando parlava di chi rispondeva a che cos'è il proposito dello scrivere musica diceva è un gioco senza obiettivo. Quindi citava spesso la parola gioco Cage per intendere quello che metteva in piedi. Cage è molto interessata alle filosofie orientali, sia quella indiana sia quella giapponese. Questo introduce nell'opera di Cage una forte tensione verso la casualità degli eventi. Da compositore, cioè quindi da qualcuno che organizza forme, era interessato anche alle regole per produrre gli eventi. Quindi tutta l'opera di Cage è molto connessa al tenere assieme la casualità e le regole. Il nesso casualità-regole è una delle roccaforti delle dimensioni del gioco. Il gioco ha delle regole ma le regole non prevedono tutte le mosse che verranno fatte che altrimenti sarebbe un agire meccanico. A differenza delle partiture musicali classiche, classiche classiche, della tradizione classica in cui lo spartito offre le regole, le norme che il direttore d'orchestra aiuterà a implementare nel modo più fedele possibile, quindi bloccando la varietà dei comportamenti. Tutta la musica di Cage e la ricerca musicale di Cage tende invece a espandere la dimensione della scelta del musicista e della casualità addirittura. E quindi aggiungendo alle regole la variante del libero gioco degli eventi. E' il primo elemento in cui entra in gioco la parola gioco. Quindi una dimensione di gioco, quella delle regole. No, io la vedo qua ma non la vedete voi. Eccola qua. Prima dimensione che sicuramente trovate è quella delle regole, a cui si aggiunge però anche la dimensione della... in connessione appunto alla casualità a cui viene lasciato spazio e la dimensione della gratuità degli eventi. Non tutti gli eventi seguono un copione già predeterminato. Quindi c'è un libero gioco che è quello che noi usiamo l'espressione il gioco del caso, che è un'altra declinazione del gioco. Non è il gioco inteso come regole ma è il gioco inteso come evento casuale. e iniziamo a mettere a fuoco la costellazione del giocare. Il fatto che ci siano degli eventi non previsti mette in gioco una dimensione della esplorazione, della rottura, delle cornici di aspettative standard e della esplorazione di situazioni non previste. Eseguire il pezzo vuol dire anche andare incontro a quella che è la gestione della casualità e quindi anche la scoperta del nuovo. Uno spartito di Beethoven non ti fa trovare del nuovo nella sua musica. È la ripetizione di un modello, di una struttura che è stata organizzata che è lo spartito. Nel caso di un'opera di Cage raramente la stessa opera eseguita due volte dà lo stesso risultato. Quindi ogni performance è un'esplorazione e una rottura quindi del modello costruito precedentemente. Altro elemento, interazione e flessibilità. Nel momento in cui c'è un gioco di parti che hanno una loro variabilità e non determinazione l'opera di Cage mette in moto la dimensione della interazione. Non è una esecuzione meccanica. Questo è lo spartito ed esegui. In realtà il musicista classico interagisce con gli altri musicisti in modo molto limitato. Si dice l'ensemble, sì ok, devi sentire dove sono gli altri, devi coordinarti, ma di fatto è un'interazione fortemente sussunta nella struttura di regole organizzata dallo spartito. Nel momento in cui le regole sono solo indicazioni generali di quello che verrà fatto vincolano l'azione ma poi la forma finale viene ricercata dal musicista in interazione con l'altro musicista. E anche la dimensione dell'interazione è una dimensione tipica del gioco ovviamente. L'esplorazione attraverso l'interazione dei partecipanti. Quindi l'idea della performance. Ultimo punto è la dimensione anche emotivo-psicologica del giocare il gioco. In questo caso la dimensione dell'umorismo. Molte delle opere di Cage, come era Cage stesso come persona, e come viene anche dalle tradizioni orientali di riferimento di Cage. Ad esempio lo zen, i koan dello zen, le sottili battutine umoristiche che il maestro zen fa al discepolo per raddrizzare la sua comprensione delle situazioni. Cage è noto per essere un musicista di tipo fortemente concettuale e un po' tutta l'arte concettuale a partire da Duchamp ha questa forte dimensione umoristica. Dove l'umorismo non è solo il divertimento, è sì l'effetto del divertimento, ma è l'umorismo legato al divertimento in relazione a quello che è la rottura delle cornici. Una cornice psicologica personale organizza il tuo insieme di aspettative, la rottura della cornice, da Pirandello in poi, il famoso libretto sull'umorismo, rompe questa cornice e il divertimento nasce proprio dal vedere la gratuità dei sistemi entro cui viviamo, la loro essere un'opzione e non una terra ferma. Questi tipi di piccoli punti che vi ho elencato li ritroviamo nell'opera di Cage in tante situazioni, ad esempio l'aspetto del libero gioco delle parti, eccetera, mai è stato così chiaramente esemplificato come nel brano 4 e 33 di Cage, che è il famoso brano che è una partitura bianca, arriva il musicista, 4 e 33, che sembra uno scioglilingua, è la durata del pezzo, il pianista si siede al piano e per 4 minuti e 33 non suona nulla. E questa è la dimensione per lasciare essere i suoni del mondo circostante. Questo è un piccolo stralcio da 4 e 33. e questo è il libero gioco degli eventi sonori che popolano il mondo. Il musicista lascia essere questi eventi e li lascia che giochino con la loro vita. Poi, numerose sono le forme di intervento ludico di Cage. Ad esempio, al posto di far suonare la pianista dei pianoforti classici, qua la rottura, la rottura che dicevamo prima delle aspettative, viene eseguita non tanto facendole suonare suoni strani, suona un pianoforte, ma suona un pianoforte giocattolo. Un piccolo pianoforte giocattolo. Concettualmente, lo vedete dalla foto, lo vedete che vi porta a riflettere sulla differenza tra quello che sono le aspettative della cornice standard e le aspettative della cornice invece, eccetera. Un'altra dimensione di intervento e quindi di modifica delle cose, delle regole, quindi un gioco all'interno delle regole è il pianoforte preparato. Cage è uno degli autori più importanti della letteratura musicale sul pianoforte preparato. Il pianoforte preparato sarebbe, si apre la scatola del pianoforte e vengono inserite degli elementi, delle molle, delle cose sulle corde del pianoforte, modificandole. Quindi il pianista suona ma genera dei suoni molto particolari, spesso e volentieri sembra un gamelang balinese. In realtà c'è un reale riferimento col gamelang balinese perché in quegli anni, nella New York di quegli anni, gli antropologi importavano a piene mani il gamelang balinese, lo si trovava nelle scuole di musica di avanguardia come la New York School of Music, in particolar modo un compositore che si chiamava Harrison che era stato proprio a far ricerca musicale in Bali, eccetera. Quindi in questo caso umorismo, il pianofortino piccolino, intervento, rottura delle regole, 433, gioco inteso come libertà di sperimentare. Questo tipo di filosofia Cage la porta avanti non solo nella dimensione musicale ma anche in quella delle performance coreutiche. Cage è il compagno di vita di Mers Cunningham e Mers Cunningham è uno dei più importanti coreografi del Novecento, quello che ha inventato in un certo senso la danza postmoderna. La filosofia di Cunningham è la stessa di Cage, fa parte dello stesso blocco, vengono dalle esperienze di ricerca insieme a Rosenberg del Black Mountain College negli anni 50. E lo stesso vale per la danza che spesso era eseguita con le musiche di Cage di Mers Cunningham. Anche in questo caso, a di dove nella tradizione della danza classica il ballerino ha una serie di posture che hanno in genere un riferimento alla buona educazione corporea, all'organicità del gesto, alla fluidità, alla compattezza del corpo, che è già il primo ballerino e il primo coreografo che si mette a scomporre e decostruire il corpo del ballerino in singoli elementi coreografandoli come elementi a sé stanti. Di qui i movimenti, vuol dire, goffi dei ballerini di Cunningham o perlomeno altamente astratti. E so qua ho cercato di mettere due immagini che nessuno vedrà perché c'è la luce e quindi anche questa è una specie di 4,33 visuale. Il gioco di Cage va anche al di là del punto e include anche dimensioni assolutamente, come dire, realmente ludiche. Quello che vedete in alto intorno alla scacchiera è Duchamp e Cage che giocano a scacchi. Duchamp è noto per essere un folle scacchista, quasi professionista e Cage quasi. vedete i fili escono dalla tastiera, il brano è la sonorizzazione dei movimenti, delle pedine sulla scacchiera e quindi a seconda del gioco reale che fanno, quindi è un gioco di scacchi, il gioco, il giocare a scacchi produce i suoni che sono poi il brano preparato da Cage. in modo un po' più lasco però ha sempre a che fare con lo spirito, vedete uno stralcio da lascia e raddoppia e Cage è famoso, in Italia è stato famoso prima che come compositore perché è stato un concorrente di lascia o raddoppio di Mike Bongiorno nell'epoca storica e ha vinto un sacco di puntate, è arrivato praticamente in finale perché una delle attività di Cage è un enorme esperto di funghi, è un appassionato di funghi e le sue materie in un periodo appunto che vivevi in Italia è stato partecipato come esperto di funghi e all'interno della trasmissione di Mike Bongiorno hanno anche eseguito le sue performance che come capite potete immaginare come Mike Bongiorno le presentava, c'è questo tipo pazzarello dall'America un po' fuori di testa che fa queste robe. Lo vedete qua che sta presentando appunto le sue gli oggetti musicali che lui suonava, quindi non solo la scacchiera un gioco produce suono ma anche la partecipazione a un gioco televisivo altra tipologia di gioco. ok questo invece appunto per chi riesce a vederlo è una delle pagine dello spartito del brano di Cage che verrà eseguita questo pomeriggio alle 6 e mezza e domani pomeriggio alle 5 e mezza nel cortile di Palazzo Forte. Questo fa parte dei brani che vengono chiamati Number Pieces vedete il titolo che è un numero 4-6 i Number Pieces hanno questo tipo di tradizione il primo numero 4 ad esempio dice per quanti musicisti è stato scritto 4 vuol dire che è uno dei pezzi scritti per 4 musicisti l'elevato a potenza 6 dice che è il sesto brano scritto da Cage per 4 musicisti c'è 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 eccetera quindi sono dei duetti quartetti e così via fino a un ensemble massimo di 101 persone questo brano come è scritto è stato scritto con la tecnica musicale delle parentesi temporali parte della filosofia di Cage era ciò che noi che è una filosofia molto relativista che è molto connessa a quello che è anche il dibattito americano di antropologia di quegli anni che introducono il relativismo in questo caso è l'onda lunga del dibattito relativista in antropologia nelle arti e quindi in questo caso in ambito etnomusicologico e quindi l'idea che la musica sia suono organizzato suono socialmente organizzato per riprendere una definizione da Blacking come quali siano i suoni e quale sia l'organizzatore però non è già data e in questo caso Cage radicalizza il relativismo in un certo senso il relativismo antropologico che dice potrebbe essere uno xilofono africano potrebbe essere un canto di gola mongolo lo radicalizza dicendo qualsiasi tipo di suono non necessariamente un suono che noi riconosceremmo come musicale anche il rumore della sedia spostata è un suono e quindi la musica è fatta di suoni che possono essere quelli che noi scegliamo organizzati le parentesi temporali servono proprio a organizzare in un modo che non è il pentagramma ma è un'organizzazione quindi regole dei tipi di suoni il brano 4-6 prevede che ogni musicista scelga 12 suoni qualsiasi cosa noi decidiamo di scegliere un'arpa una nota e li organizziamo organizziamo come dentro queste parentesi temporali ci sono 4 musicisti ognuno ha 3 pagine di pentagramma e vedete le varie indicazioni 2-4-9 dice quello è il suono 2 scegli tu quando farlo partire e quando chiuderlo all'interno delle indicazioni che ti do il tempo in alto puoi decidere di farlo partire quando vuoi all'interno tra 0 e 1 e 15 il brano dura mezz'ora tu hai il cronometro che va tra 0 e 1 e 15 puoi decidere di farlo partire e puoi decidere di far finire quel suono tra 0 e 2 e 5 quindi di fatto puoi farlo durare 2 minuti o puoi farlo durare praticamente un secondo a seconda di dove lo fai partire e poi c'è il suono 4 stesso gioco quindi 4 musicisti che gestiscono questi 12 suoni con queste loro scelte il pubblico al centro della performance sente aprirsi e chiudersi questi 12 12 per 12 più 12 più 12 più 12 tipologie di suoni che vengono a popolare il suo ambiente sonoro per la mezz'ora che dura il concerto lo vedete che c'è un sacco di elementi di gioco qua all'interno perché? perché i vari musicisti non sanno cosa farà l'altra persona i suoni ognuno seleziona il suo tipo di suoni quindi c'è una dosi di casualità però non possono essere ci sono anche un sistema di regole non possono essere 20 suoni devono essere 12 non puoi farli partire quando vuoi il suono 2 deve partire per primo all'interno di queste parentesi ma tu puoi scegliere quanto farlo durare dentro queste parentesi e oltre al fatto dell'ironia e il divertimento della rottura delle nostre convenzioni della performance musicale classica quindi l'aspetto ludico divertente del giocare l'effetto viene fuori dall'interazione tra musicisti l'altra dimensione del gioco che vi avevo accennato questa mi sembrava giusto per chiudere mi sembrava una buona immagine giocosa di Cage per chiudere questa escursus sul gioco suono e struttura in Cage beh basta appunto io avrei finito non so se valgo con le domande ma io avrei finita ringraziamo professor Ronjohn per il suo intervento gioco suono e struttura nell'opera di John Cage grazie a tutti grazie a tutti per la passione the so